Ok, vi avevo chiesto se volevate un video dove vi spiegassi un po' il funzionamento di TikTok Eccomi qua, adesso vi porterò all'interno del mio TikTok che ho sul Note 10 Quindi prendo il pennino ed entriamo su TikTok Ok, eccomi qui, adesso che vi metto il mio faccione in primo piano Sono un po' arrabbiato, faccio questa premessa Perché ho appena finito di registrare questo video e mi ero accorto che non c'era l'audio in sostanza Ho registrato solo il video dello schermo e non ho registrato l'audio Perché siccome è la prima volta che lo faccio qui da note piccolino Mi ho dimenticato che bisogna impostare anche registra voce E vabbè, detto questo andiamo all'argomento di questo video Dato che me l'avete chiesto, un video tutorial chiamiamolo così Di questa applicazione che ultimamente sta spopolando E cioè TikTok Allora, per iscriversi a TikTok ci vuole username e password Chiaramente, come sempre Vi si chiederà anche un numero di telefono Qui necessario Una volta che voi vi sarete iscritti a TikTok Vi troverete sulla pagina principale La pagina principale, la home in un certo senso Per chiamarla in modo familiare Vi porterà in questi per te Poi ci sono le sezioni di seguite Cioè le persone che già seguite vi mostrerà il loro video Però la sezione principale su cui salite sempre di nottate Sarà quella di per te E voi vedete Video di tutti i generi Personaggi anche bizzarri Questo c'ha un noto di 10+, ci lasciamo anche un cuore Vi faccio vedere un po' come funziona Cuore, chiaramente, commento Oppure invio inoltro di un video a qualcun altro Di cui potete andare al suo profilo Inizierà a seguirlo Sotto gli hashtag che mi ha usato E niente, scorriamo Quindi dicevo potete trovare video di tutti Bambini, ragazze Anche The Rock Tizi strani, tizi nostrani Donne che si esibiscono Tante cose Però il punto non è questo Il punto è che comunque questa è la pagina principale Subito dopo abbiamo la sezione degli scopri Dove con cerca potete trovare delle persone Se cercate una persona a pinco pallino in particolare Potete cercare Potete cercare gli hashtag E qui ci sono delle challenge Cosa che io ho usato poco Tra virgolette Perché sono delle cose che vanno Diciamo Che magari tendono anche a Aiuterebbero anche a farvi Diciamo venire Gli altri Perché ci sono queste challenge Cioè queste cose che vanno di tendenza E voi usando quest'hashtag Oppure sfruttando queste challenge Di queste cose che si fanno così in giro Avrete la possibilità Avreste la possibilità di Di farvi vedere in più in giro Quindi questa è la sezione scopri Quindi la sezione cerca in sostanza Poi la sezione più la vedremo tra poco La sezione in arrivo vi dice Le notifiche Tutte le attività Tutte le notifiche messe insieme Ma si possono anche selezionare E andare per sezioni appunto Siamo in arrivo E poi c'è il me Il me che vi mostra praticamente il mio profilo Il profilo è strutturato in questa maniera Questa è l'immagine di profilo dinamica Molto carina Si può mettere anche un'immagine statica Il bello dell'immagine dinamica Appunto che è dinamica Si muove Però non c'è qui il concetto di storia Nel senso che non c'è qualcosa Che posso mettere qui Che poi Che duri poco diciamo La cosa è che ci sono tutti questi video Qua sotto i post Sono tutti questi I video C'è video di 15 secondi Massimo un minuto Anche insieme di foto È essenziale che comunque vadano tutti Vanno poi tutti qui Tutti qui Li mette con le tre striscette Infatti c'è questo cuore Dove dice Mi piace che ho messo io Poi salendo sopra Bella descrizione Poi modifica profilo Modifica i dati personali Poi la cosa interessante È che c'è questa direzione Qui dove potete poi mettere i social vostri Che utilizzate Instagram e YouTube Ho inserito io Perché poi non è che sono tutti compresi Però è interessante Che qui vi rimanda direttamente A questi social qui Una sorta di bio Poi questa cosa serve Per salvare il profilo E il mio profilo Non me lo salvo Serve per salvare i profili degli altri Sopra il numero di seguiti Le persone che seguo Le persone che mi seguono E il numero di mi piace totali Che hanno preso i miei video Quindi la somma di tutti I mi piace dei video 68 il totale dei video Il nickname Questi sono i video Anche andando nei miei video Si può scorrere in questa maniera Qui come se fossero Come se fossero i per te Che vi ho spiegato prima Ok Quindi questo l'abbiamo fatto Quello che mancava È il più Qui si apre la telecamera Scompare la mia faccia E in sostanza Facciamo così Ribaltiamo Vi mostro io Così Faccio vedere Allora qui facendo di più Vedete velocità E si può impostare la velocità Del video Quindi da più veloce A più lenta A più veloce Bellezza Sono dei filtri Questo è disattivato Così attivato Bellezza Cambia poco Poi Filtri E poi chiaramente I filtri Con questo Siamo abituati E timer Quindi io posso impostare Posso ponciare il telefono Su un tavolo E posso Impostare tre secondi Il tempo di mettermi in posa E poi comincio a fare video Collassa Chiudi Con l'asso un po' strano Carica Qui si può caricare Immagine O un video Dalla galleria E poi gli effetti Gli effetti Vediamo tra un secondo Perché vediamo queste tre Cose qui sotto Video massimo Di 60 secondi Come vi dicevo Poi c'è quello di 15 secondi E quello più gettonato E poi mv E vv sono questi effetti Tre impostati Diciamo questi Preeditati Inserite le foto E lui C'è la beida E lui Combina queste cose Anche molto carine Alcune E poi Ecco sono uscito Torniamo in fotocamera E poi gli effetti Gli effetti sono veramente Tantissimi Quelli di tendenza Quelli usati Chiaramente Di più Di tendenza Poi Halloween Perché siamo sotto Il periodo di Halloween E poi tutti i vari filtri Che sono veramente Tantissimi Ne faccio vedere qualcuno Perché Questo mi sdoppe la faccia Per esempio Mi sdoppe la faccia Questo che fa Clicca sullo schermo Mi sono illuminato Poi Sono veramente tanti Questo qui Mi fa Gli occhi Di gatto A ver Qui sono opinabili Però Chiaramente ci sono Quelli di Questo fa shake Mi sbatte Comunque Tanto per dirvi Che sono effetti Sono veramente tanti Certi sono carini Sono divertenti Poi c'erano quelli Salvati Che sono quelli Che ho salvato io Certi fanno anche Un po' paura Questo dell'acqua Questo qua E' molto carino Che esco dall'acqua Vabbè Torniamo Se li togliamo Gli effetti Sono veramente tanti Come dicevo Si possono combinare In modi Molto interessanti E video Da 60 secondi La cosa è che Non vi posso Farvi dire Perché devo Usare un video E che poi Si possono mettere Anche varie transizioni Di quest'app Funziona anche Da piccolo editor Quindi veramente Ci sono tanti effetti Preimpostati Che sono parlante Cose carine Senza uscire Da tiktok Quindi editare Tutto qua dentro E poi ci sono i suoni Che sono una cosa Pure interessante Forse molto interessante La più interessante Perché Chiaramente tiktok E' nato come musical Inizio si facevano I playback Delle canzoni E qui avete Canzoni Più ascoltate Più popolare E queste potete Potreste sfruttarle Per dar visibilità Ai vostri piccoli video Chiaramente se non parlate Altrimenti voi La voce Più la musica Non si capisce niente Però Questi sono Sono utili Appunto Per dare visibilità Perché potreste essere Trovati Tramite appunto Il suono Che potete anche cercare Qui se cercate Un cantante Un attore In particolare Usciamo dalla fotocamera E ritorniamo Col mio Facile Primo piano Spero Credo di avervi detto Più o meno Tutto il grosso Poi sono anche io In fase di esplorazione Di questo social Se vi ho fatto capire qualcosa Fatelo sapere Se avete domande Oppure commentate Se vediamo un po' Se riusciamo a averne a capo Per questo video Diciamo che È tutto Per adesso Io vi saluto Ciao